Firi Aleccese, veniamo ai 5 Stelle, la proposta di Luigi Di Maio di sfondare il tetto del 3% nel rapporto fra deficit e PIL è un controsenso assoluto, ha commentato poco fa il commissario dell'Unione Europea Pierre Moscovici. E oggi parte il voto per le parlamentarie del Movimento. Il leader Di Maio, lo vedete, pone l'accento sulla semplificazione della burocrazia. Sentiamo. Lanciamo un progetto di abolizione di 400 leggi col sito leggidaabolire.it e noi vogliamo partire dall'abolizione della norma che istituisce lo spesometro e gli studi di settore. Quelle non sono leggi che hanno contrastato l'evasione, sono leggi che hanno reso la vita un inferno di chi pagava sempre le tasse. Il nostro obiettivo è lasciare in pace le imprese e lasciare in pace i cittadini di vivere serenamente. E per farlo lo Stato deve essere cosciente del fatto che per contrastare l'evasione e aumentare il gettito bisogna semplificare.